La Cireale ormai non può più nascondersi. Dopo la quarta vittoria consecutiva, ottenuta in un gremito tupparello nello scontro diretto contro la Sicula Leonzio, una delle corazzate del girone B di eccellenza, i Granata entrano di diritto nel lotto delle favorite per la promozione in Serie D. Ad essere decisiva, in una partita tirata e ricca di occasioni da entrambe le parti, è stata la rete siglata da Conti al secondo minuto della ripresa. Il centrocampista accese è stato abile ad addomesticare una palla vagante in area di rigore, scoccando un preciso tiro di esterno-destro che si è spento all'angolino alla sinistra del portiere avversario Vitale. La rete degli uomini di Raciti è arrivata a coronamento di una condotta di gara gagliarda intensa, che ha portato la Cireale ad essere subito aggressivo dalle parti di Vitale. Millesi si è reso pericoloso in due occasioni, tra cui si registra anche una spettacolare punizione dalla Trequarti, mentre la Leonzio ha risposto con due squilli firmati da D'Amico. Poi è Librizi a mettere i brividi ai tifosi Granata con un colpo di testa che fa la barba al palo. A rispondere ancora Millesi con una punizione dalla sinistra che chiama Vitale agli straordinari. La ripresa comincia sugli stessi ritmi, dopo due giri doloroggio arriva il vantaggio acceso e firmato da Conti, facendo esplodere di gioia più di 2.000 sostenitori presenti al Tupparello. Dopo il gol paradossalmente i ritmi cominciano a calare e la Leonzio si fa pericolosa a metà ripresa con Frittitta e poi con Carbonaro. La Cireale però dimostra maturità e riesce a gestire da grande squadra la pressione degli avversari. Il triplice fischio sancisce una vittoria di Platino che proietti Granata al secondo posto a sole due ronghiezze dal Rocca di Caprileone e da un'Igia Virtus bloccata sull'1-1 a Taormina. Un campionato di eccellenza così equilibrato ed emozionante con cinque squadre in tre punti non si vedeva da tempo. La prossima settimana al Dal Contres di Barcellona a sfidarsi saranno proprio Igia Virtus ed Acireale.